Ma che bella faccia che ha quest'oggi la mia Fere Ma chi sei? Ma come mai sei così in forma? Non sei Steph, non puoi essere Steph, scusami Eh, purtroppo lo sono Allora, spieghiamo subito che sta succedendo Siamo in una mappa talmente vecchia di Minecraft Che non ci carica le skin Non sentiamo l'audio del gioco Perché si bugga, quindi E ci sono duemila problemi e manco abbiamo iniziato Rendiamoci conto Però, d'altro canto, siamo tipo nella mappa di dropper più vecchia mai vista Il che è molto figo e sarà divertente Allora, Fere, hai impostato tutti i settings che dice qua Che altrimenti ti esplode il computer? Sì, ma probabilmente mi esploderà lo stesso Steph Anche secondo me Però io ci ho provato Andiamo? Andiamo Ok, vado? Ho premuto il bottone 3, 2, 1 Io ho paura, io ho paura Ok? Ok, ok Ok, no, tu ti ho paura Aspetta Aspetta Ma sei ancora più piccola di prima, Fere? Ma io non ti vedo direttamente, Steph Ma non è possibile Quello ti diceva, aspetta, aspetta Vabbè, siamo... Sono qui vicino Comunque sappi che sei diventata una nana E che siamo velocissimi Scusa, fammi vedere Guarda Vedi Oh, mamma mia No, ma aspetta Ho le gambe sotto il pavimento Eh, beh Tutto a posto adesso Che è bello la 1.5 Allora, livello 1 Rainbow Sei pronta? Sì Ok, premi Che cosa devo cliccare? Vai Il bottone, il bottone Ho cliccato, ho cliccato Ok, allora C'è una spiegazione? Redmi è arrabbiato, eh? Eh, sì Si, si sta già urlando qui, eh Allora, ok Dice che quando premeremo il bottone Saremo teletrasportati Che funziona con delle relative coordinate Che dipendono dalla posizione in cui siamo noi nella stanza Stai, stai, stai Io non ci so capire nulla Dice Sit on the yellow block and stay still Quale? Questo Premo questo bottone Vediamo che succede E poi vai nel bottone Vediamo il coso giallo veloce Vai Ha funzionato? Ha funzionato, ha funzionato Sto già cadendo Ok Ok Ok, di nuovo Allora, più o meno sto capendo Sì È un dropper tramente vecchio Che non funziona come quelli precedenti Corri, Fede No, lo ce l'ho fatto Scusami Ok Ma dai, per pochissimo A me sta scombustolando Sì, sì Allora Premi il bottone Ho bisogno di un secondo step per metabolizzare Non ci stacca più un cavo Allora, allora Praticamente funziona così Corri Ma mi dici un secondo Prima di metabolizzare Ok, ok Fede Fede sta accelerando Fede sta accelerando Oh Come sta accelerando? Che ti succede? Devi provarlo Ok Allora, tutti fermi i consolini Adesso guardatevi la sua reazione Ma devo stare ferma? Mi c'entra perfetta? Ok Oh mamma mia Guardatela, guardatela, guardatela Che cos'è, Steph? Aiuto Ok È il dropper più vecchio di sempre, cara mia Allora, qui c'è un'ender chest vuota Una chest con un diamantino Grazie Oh, bello There is a diamond in each level Cioè, ci andiamo avanti in ogni livello Perfetto Ok, io lo metto nell'ender chest Così ce l'abbiamo lì per sempre Anche se muoiono o perdiamo Ok, premiamo il bottone Torniamo su E torniamo di sicuro Allora, ti dicevo, Steph È molto strano Perché non funziona come i dropper Qui siamo abituati Ok, lo so Ai giorni nostri Ci sono tanti bug Sì, è una roba degli anni 70 Se hai 5 anni è molto Non lo so Sì, ma sembra Che ti devo dire È colpa mia se Minecraft si è evoluto così bene in questi anni Non è colpa mia Andiamo Andiamo A livello Isengard Spera Stiamo già a casca? Devo stare fermo? Non lo so Allora Ok, ok, ok Allora, ci sono anche modi molto particolari di entrare in ogni livello Stiamo notando questo, giusto? No, sì, ma io volevo dire Ma noi dobbiamo giocare O sono soltanto dei dropper Che tipo provi e guardi? No, perché ogni volta dobbiamo stare fermi È una roba un po' strana Vediamo il prossimo Aspetta Fede 5 secondi Per correre al centro della stanza Ok Vediamo Vai di nuovo alle ragnatele Ok, sono al centro, suppongo Ah, aspetta, aspetta, aspetta Dobbiamo trovare un modo per raggiungere la fine del livello Che sta succedendo? Questo qui pareggiava un po' facendo i livelli, eh Porca miseria Io non mi voglio esprimere Cioè, perché se devo essere sincera Non ho giocato Minecraft così tanto tempo fa Quindi non so se è normale Oppure se c'è capitato un livello particolarmente strano Che cosa fantastica Non lo so Allora, 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 ti spiego Praticamente adesso noi ci dobbiamo buttare verso il basso Credo No, dice che dobbiamo trovare Una via per raggiungere la fine Eh, appunto Ah, da qui sotto Eh, ma dove? Aspetta, fammi vedere tutti i posti Dov'è il punto più basso in cui non muori? Sembrano tutti uguali, eh Lo so Bene l'ho trovato Devi andare qua e saltare Ok Ti devi fidare, ok? Ok Ok, vedo l'acqua Mirala, eh Mi raccomando Mi raccomando Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ti prego Come hai fatto? È una pozza grande 20 metri E mi sbagli Ho preso lo scalino Ok Posso prendere gli scalini? No, non quando è così semplice Ti prego, eh Ti prego Ti vedo, ti vedo Ok Ok Buongiorno Allora, poi ci sono delle freccette qua, Steph Io sono innamorato di questa mappa Te lo giuro Mi sono innamorato Ok, adesso, Fede Continuano le freccette E noi continuiamo ad andare Che ti devo dire? Che succede? Tu sei sempre sotto terra Guardati Ma anche io ti vedo Ah no, io non ti vedo sotto terra Guardati Ma che cavolo Forse la land non era prevista Allora, leggi bene Allora The black button gives a jump resistance Boost for a few seconds Fight the diamond higher than higher in the level Optional No, non le voglio fare le cose opzionali Push the blue button Ok, torniamo alla prima stanza Non voglio fare le cose Era una cosa opzionale per trovare il diamante nel livello Ma fare il diamante? Ma dai, Steph, su Ma è così divertente Perché non vuoi fare anche le cose opzionali? No, no Mi basta così Mi basta così Livello 3 Si chiama Neo Neo Neo, pronto Don't see the water Just reach the floor Eccomi, eccomi Allora Ok, aspetta Neo È un genio Praticamente invece che essere un dropper dove cadi e cerchi l'acqua Devi trovare il posto da dove cadere Perché se vedi abbiamo un rettilineo Hai capito? Ferre Ci sono dei blocchi invisibili Ok, ok Forse da questa parte Magari c'è una specie di labirinto Aspetta, spermo Che vuoi? Niente Sono tornata indietro Ho premuto un tasto Ho detto qualcosa succederà E sono tornata indietro Aspetta, arrivo E quindi? Ah, c'è un tasto rosso Ah, ok No No, il tasto rosso ti fa tornare l'altro Porca miseria Era l'altro il bottone Ecco perché si chiama Neo L'ho capito, Steph Neo di Matrix Ok Ok, dobbiamo premere questo Io già ne pensavo fosse tipo un labirinto Vedi? No, 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 no Hai capito come si fa? Perché io non l'ho capito No, era infinito Abbiamo un grosso problema questo oggi Sono molto preoccupato Molto Ah, lì ho visto che c'è una chest con della glowstone Ma non mi sembra che bisogna Fatto Come hai fatto? Devi arrivare alla fine Cosa vuol dire? Tu non pensare all'acqua Arriva solo alla fine E dopo 20 tentativi Bentornata Grazie Ti è piaciuto il neon, eh? Molto, molto No, era Neo Neo, Neo E vabbè Simbols, simboli Allora Bottone rosso per tornare Quindi bottone 4 per partire Dobbiamo andare di sicuro sopra il bianco Ormai ho imparato, Fede Sì, ormai siamo esperti Io non ho reagito Totalmente Non ho notato Non ho minimamente reagito Né con la voce Né con il muoversi No, niente, niente Cioè, non Dobbiamo andare nella lava No, non ho capito Io non ho capito Forse Io ho provato a puntare il vetro Ho detto Magari c'è qualcosa di morbido No, il vetro ce l'ho già morto io La lava fa morire lo stesso Esatto, io ho puntato la lava Che altro c'è? Che dobbiamo fare? La glowstone? No Allora, leggiamo Perché c'era una scritta a qualche parte Non lo so Memorize Memorizza i simboli Memorizza i simboli Ah, questi simboli qua Questi in alto Eh, ma è quindi Dopo che li memorizzo Scusami Sono tanti Allora, quest Oh, porca miseria Ma come dovrei fare Sono troppi Sono un visionario Io te l'ho detto Allora Cioè, come stile inventati? Stickman seduto Eh, una storpia No, non ce la faccio Stesso Simbolo della donna Simbolo di Naruto E asterisco No, proprio Vai, io ce li ho Però non so a cosa ci possono servire Magari quello che c'è o non c'è Ci dirà la giusta direzione Non so L'unico che c'è mi sembra che è quello di Naruto Ok, bisogna andare nei simboli che ci sono Io li sto azzeccando un po' Cosa? Ma sto continuando a scendere Ok, ho capito Ok Come capisci l'ordine? Perché praticamente Se azzecchi Scendi di sotto Capito? Devi memorizzarli nel senso che Spam muori finché non te lo ricordi No Allora, non stai capendo Praticamente Stai ripetendo, scusami Ti arrangi, ma Allora, qual è l'altro simbolo? Questo? No Ti devi ricordare i simboli che sono presenti nella stanza Perché quelli poi quando cadi sono diversi E ce n'è solo uno che è presente nella stanza E tu pian piano vai sempre più giù Capisci? Ok, bellissimo Allora, qui è questo Simbolo di Naruto Poi qual era? Asterisco Sì No, ho preso il vetro Poi quello da femmina E poi la storpia Io ti ho detto che così ricordo E infine lo stickman seduto Che è questo qua Allora, aspetta Naruto Fatto Ma cambiano di posizione È una cosa assurda Oh, io Fede Che vuoi? Sei zitto Ce l'ho andato ovunque Allora, zitto, Steph Porca miseria Non sei zitto in secondo Ok, sto zitto, sto zitto Scusami Scusami tantissimo No, non funziona più Se vuoi te li elenco tutti, eh No, cambiano posizione Non funzionano più Allora, guarda il suo schermo Vai, te li Io li conosco tutti Naruto Eh Ok Eh, asterisco In basso a sinistra Questo? Sì Poi Alta a destra Alta a destra Sì, che è il simbolo della donna E a storpia Alta a destra Ok E infine stickman seduto Qua è lo stickman? Alta a sinistra Questo? Sì Fatto Occhio No, 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 no Che devo fare? Devi andare sotto Ah Perché altrimenti ribruci Ok, ok, ok È stata ridicola sta cosa, eh Il tuo metodo di memorizzazione è stato ancora più ridicolo ed è stato ridicolo anche sto Questo si intitola l'albero The tree Io mi sto divertendo tantissimo Ah, adesso te Voglio essere il migliore amico del creatore della mappa, guarda Ormai siamo un tuttuno Ok, livello 5 Allora, The tree L'albero Credo che siamo dentro un albero, giusto? Andiamo nell'albero Io non ci vedo più, sapido Ok, ok, pronta? Mhm Oddio Oh no Ecco qua Oh no Ecco qua Allora, ho visto l'acqua Ho visto l'acqua Dove l'hai vista? Era verso destra Ok Ok Ma in quella piattaforma strana? Eh, no, no, no Tutto giù dagli alberi Tutto giù dagli alberi mi sta nella zona di destra Eh, sì Ma lì giù, nel tavolino No, questa, Ferre Guarda il mio schermo Ah, perché io ho visto, allora Cioè, praticamente, l'hai visto il tavolino? Ah, ignoralo E c'è una tazza con dell'acqua Secondo me è quella per andare a prendere la cesta e con il diamante Perché lui è un pazzo Può essere, può essere Che lui pensa che qualcuno interessino i suoi diamanti Ma io li lascio lì Ma è quindi verso che direzione devo andare? Fatto Non capisco Fatto No, non l'ho vista io l'acqua Continuo a non vederla Appena cadi devi andare verso destra Ok Eh Eh, ma qui dove? Mi sembra che tu parti in un punto diverso dal mio Qual è il prossimo? Embrio Secondo te sì c'è embrio, Ferre? Probabile Andiamo Embrio Mi aspetto del fuoco Non so perché Dove dovremmo stare qua? Boh, al centro Ok Aspetta, perché abbiamo la nausea? Ferre No Basta Basta Ti amo Punto Non ho altro da dire Chiunque tu sia Grazie per aver creato una mappa così bella Tanti anni fa Questa la schippiamo Non puoi Non puoi fare quella dopo Non lo voglio fare inquietante, Steph Cioè come ho realizzato cosa doveva essere La cosa più inquietante Terribile che io abbia mai visto, Steph Cioè ma che cavolo ti salta in mente di fare una mappa di Minecraft così? Allora E tu smettila, non dare guarda a ste cose Basta È bellissima No, Steph, saltiamo tutto il livello Non puoi, dice che non prendere avanti se non fai questo E per il più c'è la nausea, c'è anche difficile come livello Sto per piangere, guarda Ok Ma dov'è? Nella testa? Dove c'è la luce? Non lo so, non la vedo più Ah, è nella mano di sotto Ecco, ricatto così, nella mano di sotto c'è l'acqua, capisci? Non ce la faremo mai, vero? No, non ce la faremo mai Io ho ancora la nausea Ma anche io Ok No, vabbè, è difficile calibrare, è difficilissimo È difficilissimo È difficilissimo Con la visuale che ti si muove così è davvero complicato Io non ho mai fatto una roba del genere Cavolo, sei complicato Allora, cioè, so esattamente dov'è Ma non riesco a capire dove sono io, vedi? Io penso di... Ma ci dobbiamo passare in mezzo alle dita Perché poi, cioè, capisci? Io non riesco a capire il punto preciso dove sono Quindi a priori dal capire la strada Sto avendo proprio problemi così Non riesco a schivare No Ci ho fatto Ci ho fatto Ci ho fatto Bravo, questo è un gioco di squadra E mo dove vado? Prova quel dannato bottone No, Steph, aiuto È sempre peggio Oh mio Dio Oh mio Dio, devi scendere le scale Ok, è finita Che scale? Lì, non ci sono le scale Ma non ha scale, è una mano questa Ma c'è il buco Vedi? No? No, no È solo un buco? Ti avrebbe ammazzato? Si cade di sotto, non posso morire Eh, allora, forse Dove sarà il bottone? Non è che magari è sott'acqua? No Ci fermiamo così, ci fermiamo così Non vogliamo andare avanti No, dopo questo trauma io sinceramente Saranno i consolini a decidere se noi dovremmo andare a provare Aspetta, leggiamo almeno i titoli Fede, il prossimo si intitola Cervello No Questo, brain Livello numero 7 Ma poi hardware, cioè c'è di tutto Minecraft is huge Quindi probabilmente un mondo enorme di Minecraft DNA, questo ancora più inquietante Fateci sapere se volete vedere la seconda parte Spero di no, vivamente